Il Tempio Ossario lancia l'ennesimo grido d'allarme e d'aiuto. Ormai da anni, in attesa di risposte sulla sua manutenzione, sul restauro, insomma in attesa di certezze sul futuro, ritornano invece i problemi del passato. Già qualche anno fa la nostra emittente aveva segnalato infiltrazioni e altri problemi. Queste sono le immagini di quel periodo. Ora il tema torna purtroppo di attualità. Oggi è arrivata dai cittadini una segnalazione ai vigili del fuoco. Vedono sul tetto alcune tegole fuori posto. Temono che possano cadere a terra e chiamano i pompieri, i quali intervengono immediatamente in forze e notano che sul lato posteriore dell'edificio, che si affaccia sul campetto sportivo parrocchiale, qualcosa non va. Nessun pericolo grave, va detto, ma la situazione non è da sottovalutare. I pompieri transennano l'area per impedirne l'accesso, avvisano il comune e con l'autogru ispezionano il resto del tetto, verificando che qualche altra tegole è fuori posto. Il protocollo prevede che ora i vigili del fuoco facciano la segnalazione al comune che chiederà ai proprietari di prendere provvedimenti. E noi chiediamo non solo che il Tempio Sario rimanga sempre aperto, simbolo per giovani e meno giovani, ma che finalmente si investa nella manutenzione di questo simbolo prima che sia troppo tardi.